Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di jQuery. jQuery è una libreria che viene utilizzata molto diffusamente nello sviluppo di interfacce web perché facilita tante operazioni che normalmente vengono fatte con JavaScript. jQuery ha come motto Write Less, Do More ed è una libreria leggera, nel senso che non richiede un grosso carico di lavoro in termini di prestazioni, è in grado di lavorare in maniera assolutamente uniforme su browser di tipo diverso, quindi è stata calibrata in modo da funzionare bene su tanti tipi di browser diversi, anche relativamente vecchi, ed è in grado di semplificare tante operazioni comuni che io faccio per andare a manipolare quelli che sono i contenuti di una pagina HTML. È stata rilasciata per la prima volta nel 2006 e attualmente è gestita e manutenuta da una fondazione che si chiama jQuery Foundation ed è disponibile all'indirizzo jQuery.com. Come facciamo a utilizzare la libreria? Sostanzialmente il modo più semplice è di utilizzarla attraverso quella che è una Content Delivery Network, ovvero una rete di server che permette di andare a distribuire dei contenuti diffusi utilizzati da tanti. Il vantaggio di utilizzare una CDN è che invece di caricare una versione diversa per ogni server che utilizza jQuery, se io ho già scaricato nel mio browser una copia di jQuery da una Content Delivery Network, la volta successiva ce l'avrò già a disposizione. In generale è raccomandato l'uso di quella che è la versione compressa, in gergo si dice minified, ovvero una versione di JavaScript dove sostanzialmente il codice è stato ridotto, sono stati eliminati gli spazi, i commenti e quindi è decisamente più compatto e permette un trasferimento più veloce sulla rete. In particolare volendo utilizzare una CDN quello che posso utilizzare è l'indirizzo codejquery.com per andare a sfruttare una CDN e tra il .5.1 è l'ultima versione disponibile nel momento in cui stiamo registrando questa lezione, min va a indicare che vogliamo andare a utilizzare la versione minified, quella compatta. Qual è la sintassi base delle operazioni che io posso fare utilizzando jQuery? Allora sostanzialmente si usa il dollaro che è la parola chiave, anzi la lettera chiave che viene utilizzata per accedere alle funzionalità di jQuery seguito da quello che è un selettore tra parentesi tonde e poi da un'azione. Il selettore è analogo ai selettori che utilizziamo in CSS e permette di andare a selezionare degli elementi all'interno del DOM su cui operare. L'azione invece permette di fare un'operazione sugli elementi che sono stati selezionati tramite selettore. Io qui ho indicato un'azione ma molto spesso è possibile andare a concatenare più azioni una dopo l'altra. I selettori, come dicevo, sono per lo più i selettori utilizzati da CSS, per cui posso utilizzare gli elementi, posso utilizzare degli ID, posso utilizzare delle classi e posso andare a definire dei selettori speciali, ad esempio il dollaro document che permette di fare riferimento a tutto il documento e il dollaro dis per andare a fare riferimento a quello che è l'elemento corrente e di solito si utilizza dollaro dis all'interno delle azioni. Che azioni posso utilizzare? Allora, posso utilizzare delle azioni che vanno a definire degli eventi, quindi vado a definire qual è la callback handler che andrà a gestire ad esempio il click o il mouse over. Posso avere degli effetti visuali, quindi ad esempio andare a mostrare e far scomparire degli elementi. Posso andare a impostare, modificare, leggere il contenuto degli elementi HTML del DOM. Posso fare quello che si chiama l'attraversamento del DOM, ovvero navigare da un elemento ai suoi figli, sui fratelli, risalire, eccetera. Posso fare un'operazione di selezione, quindi una volta che ho selezionato ad esempio tutti gli elementi di tipo A, posso andare a selezionare il primo, il secondo, un sotto insieme. E poi ci sono anche delle azioni che permettono di fare delle chiamate di tipo AJAX per andare a recuperare dei contenuti tramite una richiesta a sincrono. Iniziamo da le azioni di base che permettono di andare a manipolare quelli che sono i contenuti HTML. Quassù vediamo alcuni dei metodi più semplici, ad esempio text, HTML e atr, permettono di andare a leggere o scrivere, leggere se c'è un unico parametro, o scrivere, scusate, leggere se non ci sono parametri e scrivere se c'è un parametro, il contenuto testuale o HTML. Per gli attributi io posso specificare il nome dell'attributo oppure il nome dell'attributo e il valore se lo voglio andare a scrivere. I metodi append e prepend permettono, dato un elemento che è stato selezionato tramite un selettore, di aggiungere al suo interno, all'inizio o alla fine, un certo contenuto. Il contenuto può essere o un elemento, oppure del testo che verrà inserito in quella posizione e dopo essere stato elaborato all'interno del DOM. Posso avere before ed after, che permettono di aggiungere un elemento prima o dopo l'elemento corrente. Il metodo CSS permette di andare a leggere oppure impostare delle proprietà CSS. E poi abbiamo add class, remove class, che permettono di aggiungere e cancellare delle classi all'interno dell'elemento o degli elementi selezionati. In generale tutte queste operazioni si applicano a quanto selezionato tramite un selettore, che può essere un unico elemento, se ad esempio utilizzo un ID per selezionare gli elementi, oppure può essere un insieme di elementi. Quindi queste operazioni sono esattamente le stesse, sia che vengono applicate a un unico elemento, sia che vengono applicate a una collezione di elementi. Come faccio a generare dei contenuti? Ecco, questo è un esempio in cui abbiamo la prima riga che permette di andare a ottenere un elemento, per cui se vediamo questo selettore abbiamo un ID, che risponde sostanzialmente all'ID di questa slide, UL va a identificare quelli che sono elementi di tipo UL e quindi sostanzialmente quello che vediamo sotto. Dopodiché cosa faccio? Parto da un array che è questo, first, second e third, e per ognuno di questi elementi vado a chiamare questa funzione, ovvero vado a fare list.append li più l'item, ovvero first, second e third, slash li. E quindi praticamente la lista che sotto vediamo avere un unico item si ritrova con first, second e third che sono aggiunti da questo codice. Un altro modo di generare del testo, del contenuto, è andare a sfruttare questa caratteristica particolare di jQuery, per cui quando io specifico come selettore non un selettore JavaScript, ma un elemento effettivo con il minore e il maggiore dei tag, il risultato è non di andare a selezionare un elemento all'interno del mio documento, ma bensì di crearne uno nuovo. A questo punto io posso andare a manipolare quell'elemento come se fosse uno di quelli selezionati e ovviamente andare successivamente ad aggiungerlo. Quindi che cosa faccio? Esattamente come prima, per ognuno degli elementi di questo array vado a fare un'operazione di append di un list item. Vedete che qui faccio $li, quindi cosa faccio? Creo un elemento di tipo li, punto text item, quindi vuol dire che creo l'elemento e vado a definire il testo contenuto all'interno di quell'elemento pari all'item, ovvero uno di questi tre valori. E il risultato cosa faccio? Lo appendo all'interno dell'oggetto OL, che è quello che ho creato un attimo prima. Alla fine andrò a prendere l'elemento che corrisponde a questa slide, in particolare un elemento li che è contenuto in questa slide, e farò un'operazione di append dell'oggetto OL che ho creato all'inizio e al cui interno ho aggiunto questi li. Quindi in pratica vado a prendere questo elemento li e al suo interno vado a mettere una order list in cui metto gli elementi 1, 2 e 3. Oltre alla manipolazione del DOM è possibile tramite jQuery fare delle operazioni che vanno a variare la visibilità degli elementi. In particolare abbiamo i metodi hide e show, che permettono di nascondere e mostrare un elemento. Il metodo toggle, che sostanzialmente passa da visibile e invisibile per un certo elemento. E ho anche altre operazioni un po' più sofisticate, ad esempio fade-in e fade-out, che permettono di fare una comparsa e una scomparsa progressiva. Questi metodi hanno dei parametri opzionali che permettono di andare a definire la velocità con cui abbiamo queste operazioni di comparsa e scomparsa. E poi abbiamo slide-down e slide-up, che permettono di nuovo di fare operazioni di comparsa e scomparsa con degli scorrimenti verso l'alto e verso il basso. Anche questi possono essere parametrizzati con dettagli che riguardano la velocità. Abbiamo poi dei metodi che permettono di andare a definire quelle che sono le funzioni per gestire degli eventi. In particolare abbiamo avvicinato quelli principali, ready, che di solito si applica a un documento intero e che viene utilizzato per andare a rilevare quando il documento è stato completamente caricato. Click, che permette di andare a intercettare l'evento di click su un certo pulsante. Double click, mouse enter, mouse leave, che vanno a intercettare per l'appunto il doppio click, l'ingresso del mouse sull'area di un elemento e l'uscita del mouse. Questi metodi ricevono come parametro una funzione che è quella che verrà chiamata quando si rileverà l'evento corrispondente sull'elemento o sugli elementi che sono stati selezionati. Ad esempio, in questo caso il primo codice che vediamo qua fa un dollaro document, quindi va a prendere il documento complessivo .ready, quindi va a gestire l'evento ready, ovvero quando tutto il documento è stato caricato, verrà eseguita questa funzione che stampa console.log document finished loading. Per cui se noi andassimo a vedere la console del documento HTML, troveremo quel messaggio che è stato stampato quando è stato completamente caricato il documento. Se noi utilizziamo click, possiamo utilizzare questo metodo per andare a definire la funzione che verrà chiamata in corrispondenza di un click sull'elemento. Per cui $H2 cosa fa? Va a identificare tutti gli elementi di tipo H2 all'interno del documento e definisce che l'operazione di click semplicemente vado a prendere $DIS, cioè l'elemento su cui è stato scatenato l'evento di click, .css, color è la proprietà css che vado a toccare e purple è il valore che gli assegno. H2 sono tutti i titoli che vediamo su queste slide, per cui a questo punto se io vado a cliccare sul titolo di questa slide, il risultato è per l'appunto di mettere il colore a purple. Ovviamente essendo H2 un selettore che si applica a tutti gli elementi del documento, se io torno indietro e vado a prendere la slide precedente, anche qui facendo un click sul titolo ottengo in pratica lo stesso risultato. Esistono poi i metodi che permettono di fare un attraversamento del DOM o parent e parents che permettono di andare a partire da un documento, di ottenere l'immediato elemento che lo contiene o tutti gli elementi di questa gerarchia che contengono progressivamente l'elemento corrente, children che permette di avere tutti gli elementi contenuti all'interno dell'elemento dato, siblings ovvero tutti i fratelli, next e prev dato un elemento ci danno quello che procede o quello che lo segue all'interno dell'elemento che li contiene. find permette di andare a identificare un elemento specificando un selettore. Sostanzialmente si comporta come selettore che io applico al livello principale con il dollaro per tatonda, la differenza è che il find si applica non su tutto il documento ma sull'elemento che è stato precedentemente selezionato. Quindi io posso fare un'operazione di dollaro con un selettore, identificare degli elementi e poi utilizzare il find per andare a trovare degli elementi al loro interno ancora. Ad esempio, in questo frammento di codici vediamo che recuperiamo la slide, il titolo è quello che corrisponde, all'interno della slide andiamo a cercare l'elemento pre, quindi facciamo una navigazione dopo aver trovato un primo elemento, quindi facciamo una ricerca limitata a quell'elemento, l'elemento pre è ovviamente questo blocco di codice che vediamo qua, andiamo a prendere per questo elemento il valore della proprietà CSS background color, la salviamo in original color e poi decidiamo di andare a definire il click come questa funzione che se il background color è uguale al colore originale e allora mette C-Shell, altrimenti rimette il colore originale. Per cui facendo un click su questo codice vedete che cambia il colore e cliccando di nuovo torna al colore di partenza. Abbiamo poi altri metodi che permettono di fare una selezione di quello che è stato selezionato in qualche modo utilizzando dei selettori ed eventualmente dei metodi di navigazione. In particolare i metodi first, last ed EQ permettono di andare a prendere il primo, l'ultimo o l'elemento in posizione ennesima tra quelli selezionati, filter permette di applicare un filtro, quindi filter riceve una funzione che può essere chiamata per andare a decidere se mantenere all'interno della selezione ciascun elemento o scartarlo, quindi sostanzialmente è una funzione che deve restituire true o false dopo aver esaminato ogni singolo elemento. Ad esempio nel codice che vediamo qua sotto c'è la selezione degli elementi tipo code all'interno di una slide che ha questo identificatore, sostanzialmente la slide che vediamo qua, EQ2 vuol dire che andiamo a prendere l'elemento con indice 2, cioè 1, 0, 1 e 2, quindi questo elemento, andiamo a dire click e diciamo che il click su quell'elemento corrisponde a this.css color magenta, quindi un click su questo elemento cambia il colore in magenta. JQuery, come accennavo all'inizio, prevede anche alcuni metodi che permettono di andare a fare delle operazioni di tipo Ajax. In particolare posso utilizzare il metodo get chiamato direttamente sull'oggetto dollaro, a cui posso passare due URL, dati in uscita opzionali che eventualmente consistono nei dati che vengono utilizzati utilizzando tramite un metodo post e una funzione che è una funzione di callback che verrà chiamata quando i dati arrivano. La funzione di callback prevede un parametro che contiene i dati, un parametro a cui viene passato lo status della richiesta e un parametro a cui viene passato l'oggetto di tipo XML e HTTP request utilizzato per fare la richiesta stessa. Per cui ad esempio in questo frammento di codice posso andare a vedere come vado a prendere un file che si chiama got.txt, questo all'interno della cartella con i dataset che abbiamo già visto parlando dei metodi Ajax e la funzione che viene chiamata, che qui riceve soltanto due parametri, i dati letti e il risultato. In particolare questo va a prendere la slide che ha come titolo get.txt.sample, quindi questa slide, e accoda a questa slide un elemento di tipo P con classe JSResult che corrisponde all'output di un frammento di JavaScript, accoda result due punti e poi accoda un elemento code al cui interno mette il risultato. E poi aggiungo ancora un elemento pre di cui definisco la classe e a cui aggiungo anche come testo il dato. Quindi mentre risalto il codice di comunicazione HTTP, data è il dato effettivo che mi viene inviato. Per cui il risultato sarà un risultato di successo e avrò il contenuto del file .txt che sono andato a leggere. Un altro metodo per gestire le comunicazioni di tipo Ajax è il metodo load, che non viene chiamato sull'oggetto $ che corrisponde a jQuery, ma viene chiamato sul risultato di una selezione. Anche questo riceve un URL e una funzione a cui vengono passati i dati letti, lo status ed eventualmente l'oggetto XML HTTP request. Quindi in maniera del tutto analoga, a prima, se io voglio andare a leggere esattamente lo stesso file e lo voglio inserire all'interno di questa slide, andrò a fare un append di un elemento di tipo pre e andrò a fare un load. Il load che cosa fa? Sostanzialmente prende il risultato dell'accesso Ajax e lo carica all'interno dell'elemento su cui viene applicato. In questo caso particolare viene applicato su un elemento pre che è stato generato al volo e il risultato viene poi aggiunto in fondo a questa slide. Per cui il risultato nella fattispecie corrisponde ad aggiungere questo frammento di codice, di testo, che è quello che è stato letto dal file txt. Infine abbiamo il metodo getJSON che è analogo con i precedenti con l'unica differenza che prevede di andare a leggere dei dati di tipo JSON e quindi andrà a fare la conversione. Questo significa che i dati che verranno passati alla funzione di callback saranno i dati su cui è già stata applicata l'operazione di JSON.pass e quindi sarà un dato direttamente disponibile in JSON, quindi un oggetto su cui potrò andare a fare delle operazioni. Per cui, ad esempio, se vado a leggere il contenuto di un file tramite Ajax che si chiama got.json, i cui contenuti sono analoghi a quelli che abbiamo visto prima, posso poi andare a chiamare un table2.html element, che è una funzione che abbiamo visto qualche lezione fa, per andare a generare il contenuto di una tabella che viene poi aggiunta all'interno di questa slide dando sostanzialmente questo risultato. Questa è stata una velocissima introduzione alle capacità e alle possibilità che sono messe a disposizione da JQuery. Ovviamente i metodi che vi ho elencato sono un sottoinsieme, sono quelli principali, che permettono di andare a manipolare il contenuto di una pagina HTML tramite il DOM in vari modi, di andare a definire degli eventi legati ai click o altre tipologie di eventi e di andare a fare richieste di tipo Ajax utilizzando semplice testo oppure andando a leggere dei dati di tipo JSON. Quindi sostanzialmente JQuery ci dà una modalità un po' più semplificata, è un po' più facile da leggere per andare a manipolare il DOM rispetto a utilizzare i metodi di base che abbiamo visto nelle lezioni precedenti.